Commentiamo il 2022 come un anno buono, nel senso che per quel che riguarda ADOS siamo tornati alla nostra operatività che riguarda soprattutto l'ambulatorio del linfodrenaggio. Un aiuto prezioso volto a favorire il benessere fisico e psicologico delle donne operate al seno, un gesto concreto, un esempio di come con dolcezza prendersi cura di chi più ha bisogno. Questa è l'attività portata avanti da ADOS Belluno, associazione di volontariato tutta femminile, in special modo con il servizio di linfodrenaggio, ossia una particolare tecnica di massaggio. Aiuta le donne operate al seno che spesso hanno un edema alle braccia dove sono state operate in sede di intervento. Un servizio gratuito offerto dall'associazione e reso possibile grazie all'impegno di volontari e specificatamente formate e certificate. L'ambulatorio è ritornato ai ritmi diciamo pre-covid con una cinquantina di donne che afferiscono ogni settimana. Circa 2.600 dunque gli accessi in questo 2022 all'ambulatorio ADOS ospitato al padiglione San Gervasio dell'Ulsa Dolomiti. Un'esperienza che oltre al beneficio fisico per le assistite offre un'occasione di confronto e solidarietà tutta femminile. È estremamente importante sia per le pazienti che altrettanto per le volontarie. È un momento di arricchimento reciproco diciamo così. ADOS Belluno che nel 2023 festeggerà il trentennale dalla sua fondazione è inoltre impegnata da sempre per favorire una cultura della prevenzione in tutte le donne. Sabato 17 dicembre al Giovanni XXIII di Belluno in un incontro aperto alla popolazione si parlerà dunque dei progressi scientifici e delle nuove terapie per il tumore della mammella. La prevenzione si accompagna anche alla formazione, alla conoscenza e le conoscenze in questo campo sono costantemente in evoluzione.